E passerei a questo punto a Luca Dondi che invece, come managing director di Nomisma, ci porta proprio sul mercato nazionale dandoci la sua visione. Grazie. Grazie Roberto, buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Cerco di essere altrettanto minimalista nei tempi, molte cose sono state dette, molte verranno dette dai colleghi e parlano dopo di me. Farei una rapida carrellata di quelli che sono stati negli ultimi anni i fattori di espansione, i fattori di resistenza che hanno animato le dinamiche del settore immobiliare. Partendo dai fattori di espansione, molti sono stati ricordati, innanzitutto un aumento del livello di fiducia. Famiglie e imprese sul finire del 2013 hanno incominciato ad avere un'aspettativa diversa rispetto all'evoluzione dell'economia nel complesso, dell'economia familiare. Questo ha inevitabilmente comportato un cambiamento nell'approccio alle scelte, in particolare alle scelte che riguardano il settore immobiliare. Il tema si è trasferito dall'andamento delle aspettative all'andamento dei dati reali, in maniera quasi inevitabile, anche se con un ritardo rispetto a cicli precedenti, però i dati sia in termini di evoluzione del prodotto interno lordo che di numero di occupati hanno in qualche modo confermato la bontà di quelle aspettative di miglioramento, anche perché collegate a una dinamica internazionale che ha remato nella giusta direzione. L'elemento tassi è un elemento fondamentale, lo ricordava Roberto Anedde, abbiamo beneficiato di una dinamica che non ha precedenti nella storia e anche di una prospettiva di stabilità su livelli veramente esigui che in qualche modo favoriscono l'indebitamento e il contenimento del costo del debito e quindi in qualche modo spingono il mercato immobiliare. Un altro elemento, che è un elemento più recente, è legato alla stabilità del settore bancario, si è progressivamente ridotto il numero di sofferenze, si è prima stabilizzato e poi ridotto, questa è un'operazione che ha consentito dapprima poche banche e più recentemente da un numero maggiore, anche se non ovviamente totalitario, delle banche di dare una nuova spinta, un nuovo impulso al settore immobiliare quindi avere una politica allocativa nuovamente espansiva, ovviamente non è paragonabile ai precedenti del decennio scorso però è sicuramente diversa rispetto a quella che è stata la spinta data al settore immobiliare nella prima fase di crisi. Un ultimo elemento espansivo è l'andamento della domanda, si è liberato un fabbisogno compresso a partire in particolare dal 2015, si è praticamente raddoppiata la componente di famiglie che ci sono buttate sul mercato o in maniera immediata o che l'avrebbero fatto nei mesi successivi e questo è un elemento che in qualche modo sintetizza l'aspetto fiduciario, il miglioramento dell'economia reale, la capacità di indebitamento e una certa scommessa rispetto alle capacità future. Tutto questo cosa ha comportato? Un aumento delle compramenti immobiliari molto significativo nell'ultimo quinquennio più 40%, è vero che eravamo livelli molto bassi 400.000 però le 600.000 che non sono ancora una realtà ma che vediamo come un punto non distante rappresentano l'evoluzione, l'effetto di questi elementi che hanno favorito un ritorno verso il settore immobiliare. Scontiamo però la presenza di alcuni fattori di resistenza, molti li ricordava Mario Breglia poco fa che in qualche modo hanno agito da freno rispetto alle dinamiche espansive innescate dalla domanda e dalle compravendite immobiliari. Il primo elemento è l'inefficienza, noi abbiamo avuto uno sgonfiamento delle compravendite del 50% e rotti nel periodo 2006-2013, nello stesso periodo i prezzi sono sgonfiati dell'11%. La prima ondata di crisi 2008-2011 ha avuto una flessione di prezzi veramente molto contenute, i più pessimisti la collocano tra il 10 e il 15%, Istat probabilmente la colloca su valori prossimi allo 0%. Questo è un elemento che inevitabilmente si è riflesso nella reattività del mercato, un mercato inefficiente, un mercato che fatica più di altri a riprendere, quindi a differenza di quello che è capitato in tutte le parti del mondo in Italia questa inefficienza ha portato ad un allungamento dei tempi della crisi. Il secondo elemento, anche questo già citato, è l'eccesso di offerta, un eccesso di offerta di nuovo prodotto probabilmente mal pensato e mal collocato, dall'altra parte l'immissione sul mercato del prodotto esistente che non ha trovato assorbimento. Registriamo ancora oggi un'offerta molto consistente, non più di nuovo perché il processo di riduzione della produzione edilizia è stato descritto, però dal punto di vista dell'esistente abbiamo ancora sacche di invenduto che in qualche modo concorrono a deprimere l'andamento della dinamica dei valori. Un altro elemento è la composizione della domanda, la componente di investimento negli ultimi anni è molto contenuta, noi la stimiamo intorno al 6%, è una componente decisamente residuale, teniamo presente la componente di investimento del mercato italiano ha toccato anche il 18-20%. Questa componente che è una componente mediamente più facoltosa, con capacità di liquidità diverse rispetto alla domanda di sostituzione di prima casa, in qualche modo funge da maggior spinta rispetto alle dinamiche di prezzo. Penultimo elemento che funge da resistenza è la dipendenza da mutuo, è legato alla composizione della domanda, 3 famiglie su 4 che vogliono acquistare abitazioni sono dipendenti da credito e questo in qualche modo lega l'andamento del mercato immobiliare, le dinamiche complessive e in qualche modo denota una capacità reddittuale più contenuta, che in parte è surrogata dalla presenza familiare e quindi dalla capacità della rete di in qualche modo favorire l'accesso al mercato immobiliare, però denota una minore capacità propria. L'ultimo elemento che non è messo sulla grafica, l'elemento più volte citato in giornata, l'elemento fiscale che indubbiamente ha rappresentato un freno alle dinamiche di prezzo, che sono state di questo tipo a fronte di una ripresa del 40% negli ultimi 4-5 anni dal punto di vista delle compravendite, sul fronte dei prezzi abbiamo contenuto le perdite, siamo ormai verso una stabilizzazione delle quotazioni, ma quei fattori di resistenza hanno più che compensato la spinta che è derivata dai fattori di miglioramento economico e dell'aumento delle transazioni. Quali prospettive? E chiudo. Ho cercato di rimettere in fila tutti i fattori che ho citato in questo rapido escursus per dire io non vedo grandi nubi all'orizzonte, non vedo neanche i motivi di entusiasmo e sono ancora una volta d'accordo con Mario Breglia, ma tutti gli elementi, quelli che erano di spinta, credo che rimarranno di spinta. Quelli che erano di resistenza hanno perso in larga parte la loro capacità di resistenza e quindi credo che tutto sommato l'aspettativa debba essere di cauto ottimismo. C'è un'incognita che è legata all'eccesso di offerte, in particolare alle garanzie dei crediti non performing e di come queste possono avere un effetto sui valori immobiliari, però tutto sommato se messa questa componente all'interno del novero di tutte le determinanti del settore immobiliare, credo che si possa essere ragionevolmente ottimisti, che la prospettiva possa essere di ottimismo cauto con una dinamica espansiva delle compravendite anche se con tassi più contenuti rispetto al passato e una sostanziale stabilizzazione dei prezzi su quest'anno è un segno positivo. Mi rendo conto che non è molto, però rispetto a quello che è stato negli anni passati credo che possa essere già qualcosa. Vi ringrazio.